Un buongiorno a tutti i campanari di Youtube, mi trovo sul campanile di Voltorwe alla chiesa di San Michele Arcangelo, dove abbiamo un concerto di tre campane il campanone la seconda, eccola e la terza ecco, queste tre campane sono state fuse dalla fonderia Angelo Bianchi e Figli come possiamo vedere qua, lo stema della seconda nel fuso nel 1912 da Angelo Bianchi e Figli vi faccio vedere un po' di panorami che si vedono da questo campanile lì il campanile di Voltorwe al Lago eccolo, quello là poi qui abbiamo il campanile di Comerio eccolo il campanile Comerio da questa parte abbiamo il campanile di Gavilate che non so se lo riesco a inquadrare quello là il campanile di Gavilate e qui abbiamo il campanile di Bardello che non si riesce a vedere il campanile di Piondano, scusatemi invece là non si può vedere Bardello e qui sulle montagne abbiamo Bregano ma non si riesce a vedere niente e niente ora sentiremo la discusa completa e il richiamo a presto e tanti saluti da Campanaro a presto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.